Non sono dei rilani, questi sono questi, penso che non mi riesci a pensare che se ne fanno. Senti Maria, scusa, ma secondo te la mamma non ti sa cosa che tu sei un uomo? No, ma più cosa sei mamma, la dica è che sono un uomo. Sì, che se ne accorta, non te lo dice, però se ne accorta. Ma se se fosse un uomo, dovrebbe licenziare su due piedi, licenziale. E quando licenzia a me, come segretario, secondo me, più di nada? Scusa, mamma dov'è? Ah, mi sa che adesso te la passo, ok? Ah, ok. Va bene. No, no, Barbara, ascoltami, non vi pare conveniente che tu debba portare un viaggio? Sì, lo so, però il padre di Matteo vorrebbe che il mio nasce qui. Ah, ci penso io a convincere il padre di Matteo, come te io, eh? Senti, ti passo un attimo papà, è qui, ti voglio ritratare. Barbara, ti prego, scusami, non è giornata, non lo sa ne ho fatto.